Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti, io sono il mio canale, io sono Magrus, non me l'ho aspettato ma siete stati tutti sinceri o almeno spero il sondaggio del primo video di LEGO DC Super Villains, naturalmente siamo sempre qui su LEGO DC Super Villains e siete stati sinceri, non vi svelo ancora la percentuale ma c'è stata una percentuale molto più altra naturalmente come passate il video come stiamo avendo il posto su, vi commento un bel mi piace poi vi farò vedere il risultato finale, detto questo andiamo avanti forza Bob, il dottore vuole vederti, ancora dallo strezza cervelli ah finalmente ragazzi servono delle torte fresche? oh con quale parcitura? ciao Joker l'ex? ma sei un fantasma? no, non sono un fantasma mi servi tu e tutti i prigionieri di Arkham che riuscirai a radunare, vediamoci al palazzo del fato vabbè tanto avevo finito le torte, fammi uscire e sono tutto per te e bravo clown, ti basterà sintonizzare la tv della guardia sul canale 52 che c'è sul canale 52? avrei fatto una pistola congelante con molle del letto e sapone dove l'ho preso il sapone? ok vado, va bene quindi un paio di celle già ho visto che secondo me le possiamo aprire dovremmo poter salire da lì non è un problema per il principe pagliaccio del crimine? ok porca paletta vai iniziamo non l'ho reso diverso questa cosa del del rasamento o comunque finalmente adesso siamo con Joker siamo dentro ma qua non si può andare? no vabbè non fa niente vai hai qualche problema? ah aspetta ecco c'era questo che dovevamo fare se non mi sbaglio e infatti mi ricordavo ah quindi già da qua ci possiamo addirittura anche lanciare le bombette con questa cosa ma dai veramente dalla bucca vediamo un po' ehi pianta ti abbiamo ridato l'armatura e tutto il resto a condizione che non l'usassi a scopi malvagi un passo falso e ci riprendiamo tutto quanto si però stai zitto ti andavo anche liberato ok inizia a rasare qua da qua mi sa che devi fare così una miseria vai vediamo se la facciamo ok niente mi sa che una tubatura esploderà ma la butto lì no non esplosa ah almeno ma come ne ho detto acqua e corrente non dovrebbe andare bene se noi così abbiamo liberato anche Joker si l'altro non so chi sia però Joker non lo so vabbè inizia a spegnere bravo non è lui è l'altro in ogni caso mani in alto si vabbè capirai allora penso che ragazzo quante me ne servono due ancora allora dove cavo fa questo porca paletta aspetta devo distruggere un attimo a questo me ne serve ancora male scusami ecco andiamo mi servono gli aiutanti siete pronti andiamo no ah me ne servono quattro perché mi ero sognato che me ne servivano soltanto due questa cosa non l'ho capita vabbè iniziamo ad agganciare qua e vediamo magari ne riusciamo a liberare allora credo di avere qualche problema ok c'era uno che non voleva lavorare forza ragazzi vedo che però questo è un'autodidaccia avete visto in pratica come gli mondi subito iniziano subito a lavorare male ma lavorano ok tutto bene capo si vai vai forza da qua penso non ho capito da qua da qua vai qual è il problema me ne manca ancora uno tutto bene capo e andiamo e lo so ma non lo capisco perché non me li lavano tutti quanti dai forza se proprio insisti ci muoviamo sembra che dovrò farlo fare con l'inganno a uno di quegli stupidi perché ecco troppo ad altavuce no vai vai meno male che qua dovevo farlo da soli ok sei libero attenzione ragazzi eh ma ci ha aggredito con una cattiveria enorme qua penso che la possiamo rompere ok torte esplosive che ve lo dico a fare vabbè i nostri punti li abbiamo becchiati possiamo anche costruire bravo gioco è uno dei miei preferiti ma non dirlo a nessuno che cavo è sto tutto non ho capito cosa sia o ci manca qualche cosa per ripenirlo ah poi ma leva ma manco capito è una antenna canale 52 tutti su 52 hai sentito Jimmy la sta succedendo qualcosa che cosa pensi che sia lois non saprei però dopo gli ultimi avvistamenti di Harley Quinn ho paura che non sia niente di positivo era Ultraman quello che volava là dentro fanno qualcosa di decisamente criminale se Ultraman e gli altri viceroi sono qui sta scaricando la batteria come possiamo entrare forse questo party non sarà poi tanto noioso ma quella è un'area riservata ai VIP non abbiamo i biglietti dubito se è importante Jimmy te l'ho detto che stava scaricando la batteria quasi riuscito quasi riuscito che lo show era davvero una bomba detenuti ci sono verificati una serie di inconvenienti tecnici per ragioni di sicurezza è meglio che restiate nelle vostre celle coraggio joker da qui si scende ai piani inferiori oh questo è abbassato la leva è è abbassato c'ha tolto il punto adesso dove andiamo non ne ho idea a moncella e mi serve i nostri amici ci aiuteranno a uscire da questa infatti ho visto mi serve qualche aiutante allora si andiamo a chiedere aiuto di qua non credo che vediamo un po' se riesco a rompere qualche tubatura ok vai inizia a ghiacciare perché così almeno iniziamo aspetta è diverso da quello che utilizzavamo in Sibiris perché là bisognava incanalare mentre invece qua basta colpire semplicemente uscivo la va pure si lo tipicavo dai non vedo ancora nessuno non vedo qualche massa speciale dai comunque i giochi l'hanno deso potentissimo nuovi gadget ok questo mi dovrebbe poter rasare vero yes ok vai ci siamo dimmi che esce qualcuno qua dentro perché se no siamo fregati no ok questo penso questa cosa di sfuggire se che chiave sta succedendo oh 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 qualcuno finalmente pensa alla povera livewire ahahah andiamoci dentro oh porca miseria guarda qua oh mostra speciale bellissima e la vedo anche abbastanza potente secondo me questa è la corrente è vero un po' come come si chiama come Thor ok chiedo che qualcosa si sia attivato attenzione cortocircuito ok joker questo ha distrutto l'impossibile allora iniziamo a stemperare il fuoco perché ce la fai ok si andiamo joker vedi di infilare la tua cosa qua dentro così vediamo di entrare vai eh non so c'ha ragione aspetta ah no posso ah già è vero perché ho visto che si trasformava teletrasporto non mi ricordo ok ah già sta qua pure tu prima ero un po' qua eh spostiamoci che è meglio era davvero piccola quella antiflash ok per adesso ancora non non c'è nessuno ah volevo fare qualche mossa non ce l'abbiamo fatta allora siamo qua all'interno questa campanella la possiamo rompere no bello ok andiamo avanti di qua che è meglio di qua non c'è attenzione stavo cadendo di qua non c'è niente ok joker mi sa che dobbiamo antiflash io penso che aspettate ok fantastico quindi in pratica tipo audio che c'è qua dentro mi sa che dobbiamo salire vero occhiamolo è abbastanza veloce quindi diventa un pochettino complicato fare certe cose rompi antiflash che è meglio ok rapido rapido gira no vai vai veloce ci siamo oh cavolo quattro in una botta joker tutti a tua disposizione c'è anche la levetta per te quindi mi sa che joker vai gancio ragazzi siete liberi spero che non vi spaccate il cranio ma che scendete comunque non fa niente dai si però non ve ne andate che dovete lavorare però li vedo cattivi cattivi anziché no ok quattro aiutanti li abbiamo beccati ah già si sono posizionati allora primo dovrebbe stare qua no già se n'è andato scusate ah sono già tutti quanti là si vede che sono aiutanti di gioco aspetta è poi sbagliato ok e stiamo a due ciao e ciao certo forza ragazzi fate il vostro dovere dai ah vi mettete uno sopra l'altro vi mettete bra e no così non ce la faccio però eh scantatevi bra ok ragazzi adesso sono fatti vostri adesso sono fatti beccato anche questo che fate fare tutto quanto a gioco ok affare fatto anche da quest'altra parte vediamo se dobbiamo fare qualcosa da questo mettetevi al lavoro mettetevi al lavoro allora qua eh si allora mi serve infatti vai perfetto qua lo puoi attivare no mi serve la corrente ok vai live wire aspetta vai ok allora non ho capito dove sei dove sei ah ok c'è praticamente è diventato il fascio perché io guardavo il personaggio ma non lo vedevo ragazzi e infatti credo anche che non ci fa niente la corrente ah eccolo là io dicevo io ma dove cavolo sta non lo vedo non la vedo perché donna ok la corrente l'abbiamo attivata e sta scassando l'impossibile facciamo andare avanti i joker scusate è lui che comanda e si cassa seguitemi non vi interrompo vero ah 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 dipende berlin sei qui per aiutarci o solo per rallentarci no ti prego ton solo perché tu hai guastato l'intrusione ai laboratori star gente non è il momento ah che è questa cia hai visto qualcosa che possa aiutarci a fuggire beh visto che l'hai chiesto con gentilezza penso ci sia qualcuno dietro quel cancello che potremo persuadere ad aiutarci si allora iniziamo che mi serve qualcuno no signorina mi dispiace ma lei è già morta glielo dico ok allora iniziamo a quasi temprava il fuoco joker ok oh oh attenzione ah aspetta aspetta è qua dai niente da fare allora dobbiamo secondo me prima di liberarci dai joker vai ok no 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 signorina eh non sia scorretta ok qualcosa penso di averla rotta ok joker vediamo se riusciamo a beccare qualche altra cosa no qua non ho visto che c'era qualcosa ma pensa che ci permetterà di salire no lo vedremo più avanti ragazzi stai dando veramente fastidio ve lo voglio dire ecco bisogna distruggere entrare ora ci conviene grazie allora voglio rompiamo anche qua ci dobbiamo di mezzo anche quest'altra cosa che qualcuno mi deve ammazzare a questo se no lo ammazzo io allora per adesso eccolo qua vado bravo becca di regalo ciao allora questo vado a farlo fare con l'inganno a uno di quegli stupidi oh spero proprio di non averlo detto troppo ad alta voce ok ducchetto rotto ok quindi una trombetta l'abbiamo becchiata penso di aver beccato tutto vero? si vai allora pollo trombette e pesce no vabbè che cavolo è sta cosa guarda è contento quindi vuol dire che gli abbiamo fatto un bel regalo è nostra? eh oh cavolo ragazzi abbiamo solo un uomo che sta dormendo allora inizia vai vai un po' bisogno ma andiamo a Joker che è meglio che fa? gli spariamo addosso no? questo si cazza ma si cazza pure di brutto pensa che ci serva Merlin ok ho sbagliato ho sbagliato aspetta aspetta vai vado dormi ancora eh sembra che il nostro amico zombie abbia il sonno pesante ok mi serve forse posso fare qualcosa dove stai Lightwire? aspetta vai mira di là vai ah gli diamo una scossa elettrica questo si cazza ancora di più siamo amici eh insomma lo sai c'è una certa stima fra di noi aia vabbè almeno ha collaborato eh grandi stava facendo bel sogno vabbè vai vai ah tipo Ivy praticamente sei un giardinire ok mi sa che dovrò andare sopra uh che figata anti flash con tutto il rispetto per flash non è male ok qua pure c'è l'altra roba da mangiare no qualcuno aveva detto che ce l'ha bisogno anche per configli o sbaglio vabbè qua abbiamo distrutto ma non mi è salito nessuno qua sopra ok vai corrente vai guarda ok e forse abbiamo sbagliato perché ah là c'è il mini kit ok prima ci siamo andati a destra a sinistra ci siamo andati a destra penso che abbiamo bisogno di qualche colpite no no anche se l'ho visto qualche cosa vai inizio a costruire che è meglio uh questo è nostro eh vai 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 allora questa mi è nuva oh cavolo ok non penso che la dovevo beccare quella eh ok stiamo a tre quattro grazie porca paletta no oh cavolo questo è nuovo ragazzi ah l'ho mancato per poco ok oh fantastico se ahia ci stiamo beccando tutti no l'ho scansato l'avevo beccato l'ho scansato no ok vai chiamolo uh tutti beh dovremmo avere abbastanza pezzi per costruire ciò che ci serve questa è nuova in assoluto eh hanno fatto una cosa nuova che è sto coso aspe eh lo so se è qua dai guarda mi sembra un po' di corrente dai dovrebbe bastare forse ma io che pensavo che lo potevamo rompere da su non sta funzionando come dovrei ok se questo continua a funzionare male allora vai 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 andiamo fuori andiamo fuori che meglio vai ecco l'uscita era l'uscita ragazzi benvenuti dal momento che siete qui potreste darmi una mano nello svolgere i miei esperimenti è il dottor Hugo Strange i suoi esperimenti non vanno a finire bene perché gli dà una mano ti sono riconoscente questa evasione rappresenta l'opportunità ideale per ottenere molti più volontari per il mio lavoro prego figurati volontari proprio come il nostro Robert non ho parole niente giochi ragazzi monster man non vedo l'ora di scoprire come ve la caverete contro la mia ultima creazione cercate di sopravvivere quanto più a lungo possibile ok non ce la faremo a batterlo senza un piano Joker non mi piacciono i piani vai che ce la facciamo vai guarda che stiamo già agendo tu stai con Joker stai in mano all'arte stai tranquillo tranquilla ok ma era già sembra una bomba sembra sembra una trappola finca si spiede ecco appunto l'ho detto adoro le trappole in cui affondare i denti ah 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 oh oh l'abbiamo fatta arrabbiare scappa ok aspetta che lo dobbiamo distruggere mazza Joker c'ha un cannone esagerato no 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 lo facciamo fare a Joker vai vai che lo becchiamo però non vedo la linea quindi vuol dire a chi betta adesso non è proprio ciò che intendo per divertimento per quest'anno niente palestra se riuscissimo a distrarlo ancora dovremmo riuscire a stancarlo aspetta che là c'è un po' di corrente allora vai ok ciao ragazzi mi sta scassando l'aeratore mi si è rotto l'aeratore che è sta cosa qua ok Joker se c'è bisogno di te vai 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 ok forse ho alta vado vado dentro ahia mi ha scaraventato giù vai mi sono proprio stufato di questa boffonata falli fuori si penso che si brucerà eh non credo forse ok oh la l'aeratore ok vai vai ce la siamo sì ma su in serio però sta troppo lontano eh Joker non ti voglio scoraggiare magari aspetta eh facciamo la perché stai così lontano non riesce manca a avvicinarsi questo ok intanto spariamo meno becchiamo un po' di monetini anche perché magari è probabile che dobbiamo rompere molte cose no perché lo vedo lontanissimo ma anche lo vedo addirittura ci abbiamo sparato altre cose aspetta aspetta che qua mi serve sono stufo voglio andare a casa vai Joker veloce vediamo se riusciamo ecco uno dobbiamo rompere anche l'altro c'è un po' di gente qua eh vai veloce veloce ok dovrebbe essere l'ultimo pensa vai che ce la facciamo ok costruiamo e rapidamente rapidamente ragazzi eh ancora non avete capito tra un po' morite tutti quanti aspetta niente 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 da fare ancora niente da fare e dai fate una morte degna fatevi da parte e morite ok niente da fare vai questo stotto non l'ho mai visto si va giù e anche rapidamente un attimo non posso usarlo ora lo scherzo l'hanno fatto da me perché mi serve la corrente penso attenzione che qua prima ecco potresti morire dai che ce la facciamo e joker forse sarebbe meglio risalire ok che te ne pare di questo eh finiamo lo joker no non potete sconfiggere il mio mostro è già morto davvero un bel lavoro lampadina ora dobbiamo solo capire come uscire di qui rilassati verrai che troveremo qualcosa mi piacerebbe tanto dire che me l'aspettavo povero roberto magari se utilizzo un po' di gomma isolante grazie infinita mia cara merci beaucoup che c'è danno una festa cale 52 ah eravamo noi da là ho capito pensi di poterci scappare clown direi che lo prendo come un si abbiamo faccende più urgenti da sistemare porca paletta chiocchiolini che ha fatto ok quindi anche questo l'abbiamo completato assurdo perfino per arkham ragazzi modalità quindi c'è la libera sblocchiata fantastico possiamo andare avanti monetine niente male siamo soddisfatti ma a noi quello che interessa soprattutto visto che sapete benissimo che non recuperiamo niente almeno per ora sono i personaggi ok qua niente anche ora ok faccio vedere i personaggi che abbiamo sblocchiato fuggosto range ok ci sta perfetto soltanto tre e uno ancora da sblocchiare ok ragazzi anche questa parte può terminare qui naturalmente come passate un video come sapete un po' cizzo un bel commento un bel mi piace ci vediamo sul prossimo video vai ciao 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 ciao